L'Aquila naviga a vista in attesa di nuovi sviluppi sul fronte ripescaggio. Il Consiglio federale di martedì non ha sciolto i dubbi sull'eventuale modifica dei requisiti per presentare la domanda. In prima battuta si è deciso di escludere i club con carenze strutturali e con illeciti amministrativi passati. Nessun cenno invece sul versante dell'illecito sportivo, quello che interessa l'Aquila, su cui pende la penalizzazione dello scorso campionato per la vicenda d'Irti Soccer. In realtà sembra che ci sia stata attenzione al riguardo tra i componenti del Consiglio, tanto che il presidente Carlo Tavecchio ha chiesto e ottenuto di poter decidere in prima persona l'eventuale modifica, dopo aver letto attentamente la relazione che ogni presidente di Lega dovrà fornire nei prossimi giorni. La decisione è attesa forse già per la prossima settimana. A far ben sperare l'Aquila c'è il progetto mai tramontato del presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, di riformare la categoria 60 squadre. Per arrivare all'obiettivo, considerando l'eventuale fallimento di alcuni club, i Rosso Blu sperano che venga permesso di presentare la domanda di ripescaggio anche a quelle squadre che sono state penalizzate per responsabilità oggettiva in illecito sportivo. Si attendono notizie già tra venerdì e sabato, quando a Roma è in programma il Consiglio direttivo di Lega Pro. Per quanto riguarda invece il fronte societario, è confermato per martedì 14 giugno il CDA in cui verrà ratificata la nuova ripartizione delle quote, con l'ingresso ormai certo di Eliseo Iannini nella maggioranza. Grazie.